niente codice mi puoi fare la ricevuta? si ma me la puoi fare da venti? no come da venti? da venti no, la faccio da quanto mi ha pagato che ti cambia scusami? cambia, cambia a lei che ti cambia scusi a me che mi rincostrano qualcosa in più a me niente però a me niente invece cioè che ti mani stronzo come sei ah simpatica molto educata soprattutto no no ma lei è molto educata lei è molto educata, complimenti complimenti no no ma complimenti a te vieni ti saputo a solitare e accoglione complimenti